Quanto costa? Tipo un sacco di sorti. Te quanto c'hai? Niente. Non basta. Sì, ma quanto costa? 30 euro. Allora, il grande lavoro fisico e mentale che ho fatto su questo personaggio. Il primissimo passo che ho fatto è stato durante In fase dei provini, quando al callback mi hanno consigliato di studiare e di guardare due film. Uno è American Honey di Andrea Arnold e l'altro è Un sogno chiamato Florida di Sean Baker. E questi due film mi hanno aiutata anche nei mesi successivi a comprendere intanto il tono generale che volevano dare Fabio e Damiano al film, a favolacce. E poi mi sono messa a studiare queste due protagoniste donne che portano un grandissimo contrasto. Cioè c'è una grandissima libertà e una grandissima disperazione allo stesso tempo. E hanno dei tratti veramente molto similari con Vilma. Quasi a ridosso delle riprese ho iniziato la mia dieta, ho iniziato a prendere i chili e sono stata seguita da un dietologo. Ho cominciato questa dieta ferrea piena di carboidrati, ho stravolto i miei orari dei pasti, ho smesso totalmente di fare sport perché doveva essere un grasso opulento. E poi insomma non è stato facile perché con 40 gradi mangiare quasi 300 grammi di pasta per pranzo insomma non è semplice quando veramente il cibo è una forzatura, è qualcosa di nauseante. E con il caldo, con 40 gradi, è stata tosta. A metà del percorso sono arrivati i capelli biondi e quello è stato proprio il coronamento del processo. Io non avevo mai rimesso dell'extension in vita mia e me le hanno messe per aumentarmi i capelli e non mi hanno fatto dormire per settimane. Quindi... E niente, poi per tutto il resto è venuta l'empatia. Mi sono... Ho cercato di comprendere il più possibile Vilma e non è stato semplice perché è un essere umano pieno e zeppo di contrasti, è una contraddizione vivente. Però mi sono affidata a due consigli che mi hanno dato Fabio Damiano. In realtà loro si sono affidati a me e io mi sono affidata a loro e poi è... insomma c'è stato il risultato. Mi hanno dato sempre due grandi consigli. Il primo è che lo spettatore alla fine del film non doveva riuscire ad afferrare Vilma e secondo appunto mi hanno sempre detto di portare più contrasti possibili. Spregiudicata, spregevole, dolce, bambina e niente, ho cercato di seguire il più possibile questi consigli. Non c'è mai stato un momento in cui abbiamo parlato di Vilma, abbiamo discusso di Vilma. ho cercato di portare... ho cercato di seguire il mio istinto e poi insomma per quanto riguarda la mia sfera proprio di ruolo, di attrice per me è stato poi difficilissimo finite le riprese e ritornare in me. Mi sono portata Vilma per tanto tempo dietro, è stata veramente per tanto tempo con me e non è stato facile perdere quei chili e ho imparato, ho veramente imparato ad avere un buon contatto, un buon ascolto con il mio corpo. Ho capito di averlo sottoposto a un grande sforzo e ho dovuto imparare ad ascoltarlo. Quanto è importante avere dei riferimenti nella vita privata e o professionale? Ma per me i riferimenti che ho avuto nella mia vita privata soprattutto in un'età delicata come l'adolescenza sono stati fondamentali perché insomma mi ricordo sono cresciuta e ho avuto riferimenti sia genitoriali come appunto sono stati i miei genitori i miei amici, il mio gruppo di amici ma ancora di più lo sono stati i riferimenti culturali lo è stato il rock anni 70, i The Who è stato leggere sulla strada di Kiroak insomma avere per me, aver avuto per me quei riferimenti lì mi ha permesso di cominciare a tracciare e mettere le basi sul decidere che tipo di essere umano volevo diventare e penso siano fondamentali appunto soprattutto in un'età di crescita perché ti fanno quasi da specchio ti stai cominciando a conoscerti e quei riferimenti lì ti permettono di dire cavolo voglio andare in quella direzione lì voglio essere quella roba all'ino e quindi sono stati fondamentali come è stato lavorare con i fratelli di Innocenzo? è stato bellissimo è stato un regalo bellissimo e raro e mi sento immensamente fortunata di aver avuto l'opportunità di lavorare con questi due giovani esordienti i registi così fuori dal comune diciamo che è stato prima di tutto un viaggio in cui non mi sono mai sentita da sola non ti lasciano mai 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 da solo me l'avevano promesso fin dall'inizio che sarebbe stato un viaggio che avremmo fatto passo passo insieme e così è stato e poi percepisci la loro sincerità nell'affrontare questo mestiere quindi c'è una passione che veramente inonda il set io ho visto veramente tutto il gruppo lavorare con una passione immensa con gli occhi che brillano di quando fai qualcosa che ti entusiasma e che veramente fai di cuore e poi la cosa bella è che non c'è mai stato un vero e proprio momento di discussione del personaggio io probabilmente ho capito Vilma o almeno ho tentato di capirla e di conoscerla e di approcciarmi a lei forse l'ho fatto tramite i loro sguardi tramite i loro discorsi in cui si parlava di altro ricordi dei momenti divertenti sul set ricordo il giorno era il giorno della scena sull'autobus si doveva girare questa scena di Vilma che aspetta l'autobus dei bambini per tornare a casa quindi e Fabio e Damiano prima mi avevano detto poco prima di girare mi avevano detto guarda noi ti riprenderemo sarà l'inquadratura direttamente da dentro l'autobus quindi noi ti vedremo che l'autobus arriverà e tu sarai lì alla fermata e fai conto che è un sacco di tempo che aspetti l'autobus quindi sei veramente molto scocciata mi sono messa ad aspettare quel fatidico autobus e a un certo punto più andavano avanti i Chuck e più io ci prendevo la mano e e quindi a un certo punto mi sono fatta prendere talmente tanto dal rodimento dal nervosismo che stava provando Vilma e che a un certo punto ho veramente urlato a quel povero guidatore a quel povero uomo che guidava l'autobus veramente le peggio cose penso di avergli detto cose veramente indegne e tant'è che dopo finito finito di girare a fine giornata sono andata lì gli ho detto guardi veramente mi dispiace mi scusi quanto segue è ispirata a una storia vera la storia vera è ispirata a una storia falsa la storia falsa non è molto ispirata ilanto per 5 6 8 9 10 12 Grazie a tutti